Una buona giornata, benvenuti. Benvenuti a mattino 6, la rassegna stampa della nostra redazione per sfogliare i quotidiani di casa nostra, ma anche per vedere le principali notizie dei quotidiani nazionali e le news che trovate, che saranno tema di discussione nella giornata di oggi, mercoledì 6 dicembre. Nella prima parte spazio alle prime pagine e poi nella seconda parte entreremo all'interno dei quotidiani di casa nostra. Partiamo con le prime, con le vetrine dei quotidiani regionali abruzzesi. Partendo ovviamente dalle quattro edizioni del centro iniziamo dall'edizione di Pescara che apre con un titolo maestra violenta. No alle ripetizioni, è successo a Pescara, il giudice vieta al docente, arrestata, contatti con gli alunni, in alto, politica nazionale, questioni nazionali e internazionali. La proposta di Trump che poi rivedremo anche sui giornali nazionali, Gerusalemme capitale ovviamente ha scatenato l'ira dei musulmani, la proposta del presidente degli Stati Uniti. Test invalsi, gli alunni italiani i migliori in Europa nella lettura. Sport, calcio, Champions League, Juve e Roma promosse dopo le partite di ieri sera, questa sera Top Cal, Napoli di Maurizio Sarri. Scendiamo all'interno della prima pagina per vedere la fotonotizia, Sport e integrazione, Coulibaly e il suo viaggio, raccontato ai ragazzi nell'incontro Sport e integrazione all'istituto comprensivo a Pescara. Nelle cronache vediamo a Montesilvano, morto in ascensore, nigeriana condannata. Leggiamo anche Api Ayekbeni, la donna nigeriana di 35 anni accusata di omissione di soccorso in relazione alla morte di Donato Pangiarella, di 74 anni, è stata condannata a 6 mesi di reclusione. Ancora a Bolognano, paese in lutto per Luca, oggi autopsia sul bambino, bimbo di 10 anni, di Bolognano, deceduto dopo un intervento chirurgico a Firenze. A Montesilvano, cora cronaca, perseguita e deruba in casa la ex fidanzata. In basso lo sfogo di Claudio Ruffini, ex braccio destro del governatore Luciano D'Alfonso, racconta in una lettera le terribili ore di quel 18 gennaio 2017 e dice Rigo Piano, quello che è mancato è lo Stato, l'ex braccio destro di D'Alfonso, su di me, voci strumentali. Altri due box, Colonia Albanese, Villa Badessa abbraccia il sindaco di Tirana e poi il poeta sulmonese. Augusto e Betorto e Roma, riabilita Ovidio. Andiamo dall'altra parte della pagina per completare il quadro. Sanità, Superospedale, Pescara Lancia, la sfida a Chieti proprio sul Superospedale. Poi ci spostiamo all'Aquila, Abruzzo chiama Europa, domani l'evento finale. Cambiamo edizione, passiamo a quella di Chieti Lanciano Vasto. Cronaca sempre in apertura, Tabaccaio si ribella al rapinatore a Chieti, bandito gli punta la pistola, lui lo prende a bastonate e lo fa fuggire a centro pagina. La questione Megalo 2, Merlino avanti con Megalo 2, i permessi ci sono. Parla il progettista dei nuovi negozi. Nelle cronache a Lanciano muore ex poliziotto. Aperta l'inchiesta, un fascicolo aperto dalla procura frintana, farà luce sulla morte di Antonio Gonzales. 71 anni, ex sostituto commissario in servizio del distaccamento della polizia di Lanciano. In pensione da alcuni anni. La famiglia ha presentato un esposto. Sceniamo ancora, andiamo a Chieti. Truffa del Rolex, condannato un medico. Aveva finto di voler acquistare un Rolex d'oro da un venditore specializzato molisiano, ma in realtà era tutta una truffa. Andiamo a Vasto, Salmonella nella torrente e Fogne. A cielo aperto. Edizione del centro, ma andiamo in provincia di Teramo. Falso dentista, ferisce la paziente. A Nereto, denunciato un odonto tecnico. Scatta il sequestro dello studio. A centro pagina, i cittadini di Canzano esasperati dalla frana. Centro inaccessibile alle auto da aprile. Nelle cronache, parliamo di politica ovviamente, dopo la caduta del sindaco Maurizio Brucchi a Teramo. Centrodestra a pezzi. Brucchi sfiderà Gatti. Inchiesta tangenti a Giulianova. Mastropietro rischia un processo bis nell'inchiesta sulle presunte tangenti al comune di Giulianova. La procura ha chiesto un secondo rinvio a giudizio per la dirigente Angela Mastropietro, il marito Stefano Di Filippo, gli imprenditori Scarafoni e altri tre. Il processo principale, come vedete, al via, il 15 dicembre. Dunque, tra pochi giorni. In una frazione di Roseto rubate quattro auto, due sono state poi ritrovate, beh, non molto vicine, in Puglia. Chiudiamo con il centro andando sull'edizione aquilana. Il titolo è dedicato a Sulmona, assegno sociale per vivere all'estero. Sulmona, la guardia di finanza, scopre la truffa e denuncia a 31 persone. Il piano neve a centro pagina, ovviamente perché ci avviciniamo, insomma, a temperature molto fredde. Siamo in pieno inverno, che sta arrivando, pronti mezzi e un sistema radio. Queste sono le mosse del comune, del capoluogo abruzzese. E sempre nel capoluogo rimaniamo, per parlare di ricostruzione, linea dura su 108 pratiche che sono ancora ferme. E allora arriva il diktat del sindaco Pierluigi Biondi, per chi non si mette in regola, pronta la revoca del contributo. Ultima ora, scossa di 2,9 della scala Richter, notte insonne all'Aquila, alle 23.30. Nell'Aquilano una scossa di magnitudo 2,9 con una profondità di 9 chilometri. Pochi secondi non ha creato però particolare allarme. Ad Avezzano, spunta libretto bancario, vecchio, pensate, di 76 anni. Cambiamo quotidiano, andiamo sul messaggero, ovviamente edizione abruzzese. L'apertura è dedicata alla politica perché in vista delle elezioni, primi big in campo. E allora vediamo chi sono. Il PD schiera ad Alessandro, in ballo Mariani, Pepe di Matteo di Pangrazio, eccialente. Forza Italia condizionata dal caso Teramo, partito diviso sullo scioglimento del Consiglio. In alto sempre le parole di Claudio Ruffini, è mancato l'intervento dello Stato, non certo il mio sulla vicenda Rigopiano. Stagione bianca, campo imperatore, la seggiovia Fontari, pronta a ripartire per lo sport. Mancuso, Pescara, ognuno di noi deve essere un leader di spalla. Il caso erano residenti all'estero e incassavano assegni sociali. La fotonotizia, luce e traffico, siamo a Pescara. È già Natale, verso la festa, eventi a Pescara, Lanciano e Vasto. Ma per la cronaca, bimbo muore, abbiamo visto, dopo l'intervento, aperta un'inchiesta al lutto cittadino. Piano d'orta, piccolo di dieci anni, sottoposto a due operazioni. Ancora per la cronaca, lesioni, leggiamo, a una paziente, un falso dentista, finisce nei guai. A Chieti, un rapinatore, è messo in fuga. C'è anche il racconto, quando mi ha puntato la pistola contro, non ci ho visto più. Amedeo Lamonaca, 69 anni, commerciante da una vita, ha impugnato il bastone che aveva dietro il bancone. Ha messo in fuga il rapinatore. Possiamo cambiare quotidiano, andiamo in provincia di Teramo, con la prima pagina del quotidiano La Città. Brucchi non si rassegna, questo è il titolo principale. L'ex sindaco convoca i suoi a Colle Minuccio per preparare la riscossa. In alto, all'ex Ultraviolet, a Teramo apre un locale a Tutto Tondo e poi a Nereto, falso dentista nei guai dopo l'operazione. A Tottea rapinano le poste vestiti da Postini. Ma la fotonotizia è dedicata all'Agenzia delle Entrate, allagata. Acqua dal soffitto per un tubo rotto, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate vengono spostati. E poi, per la cronaca, il 24enne cinese è morto annegato. L'autopsia conferma, non è riuscito a mettersi in salvo. Di spalla le parole di Claudio Ruffini. Sotto la neve di gennaio è mancato lo Stato. A Tortoreto, aggredita in municipio dal collega. In basso per lo Sport, ovviamente, il Teramo. Teramo all'attacco per i tre punti contro il Fano. Giocherà il trequartista. Adesso vediamo le prime pagine dei quotidiani nazionali. Dunque, per il momento mettiamo da parte le notizie di casa nostra per andare a vedere quali sono le aperture dei principali quotidiani nazionali. Partiamo con il Corriere della Sera. Ovviamente vedrete tantissimo spazio alle parole di Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti, su Gerusalemme. Infatti, anche il Corriere della Sera apre con questo titolo Gerusalemme, capitale di Israele. Strappo di Trump, sale la tensione in Medio Oriente. Timori dell'Unione Europea. La fotonotizia è dedicata alla decisione che riguarda il doping e l'Olimpiade con l'esclusione di... con la sospensione della Russia. La Russia fuori dai giochi olimpici. Niente Russia, l'Olimpiade, il CIO ha deciso di punire Mosca, colpevole di doping di Stato ai giochi invernali del 2018. potranno partecipare solo gli atleti russi, ma senza bandiera e inno. Ma Mosca minaccia di boicottare l'Olimpiade. E poi ci spostiamo di poco per vedere il Biotestamento prima dello Jussoli, scontro in Senato, la legge Bersani, schiaffo del Partito Democratico. Andiamo sulle colonne di Repubblica. Anche qui, questioni di politica internazionale, ambasciata a Gerusalemme, Trump scatena l'ira araba e poi i commenti, colpo fatale sul cammino della pace. Scrive Bernardo Valli, in basso, le leggi da salvare, Biotestamento, subito il voto, ma lo Jussoli sarà ultimo a rischio. Il patto Renzi-Pisapia. Commissione banche, scontro su Ghizzoni. Il Partito Democratico, se lo convocate, vanno sentiti pure Zaia e Tremonti. E poi a dieci anni dalla strage, ricorderete, il rogo della Thyssen, dopo la condanna, ancora in azienda, purtroppo, come spesso accade da noi, i manager tedeschi. Il fatto quotidiano, questione banche, il PD vuole tappare la bocca a Ghizzoni, può sbugiardare la Boschi su Etruria. E poi, accanto, l'esclusivo, le nuove cene eleganti, un ex militante, evidentemente, di Forza Italia, al Pubblico Ministero, Silvio, fece proposte oscene a una ragazza di Forza Italia. A centropagina trova spazio la questione Gerusalemme, la capitale è Gerusalemme, il Medio Oriente si incendia, la gaffa di Trump, gli USA spostano l'ambasciata da Tel Aviv, critica anche l'Unione Europea. Il messaggero, stessa apertura, Trump strappo su Gerusalemme, la Casa Bianca pronta a riconoscere la città santa, capitale di Israele, trasferire l'ambasciata, tensione nel mondo arabo, i palestinesi minacciano una nuova intifada, sconcerto fra gli alleati degli Stati Uniti, in alto Pyeongchang 2018, doping la Russia esclusa dalle Olimpiadi Invernali, bandiera del CIO, a chi è pulito degli atleti, ovviamente russi, che però gareggeranno evidentemente senza i colori della propria nazione. Il messaggero vuol dire Roma, soprattutto notizie capitoline, allora per il calcio, siamo in Champions League, in presa Roma, 1-0 al Carabag, agli ottavi da prima del girone, e poi lo stadio della Roma, sia allo stadio, nodo trasporti per il ponte, pagherà lo Stato, Tordivalle, via libera con prescrizioni, la beffa del viadotto Traiano, libero, arriva il biotestamento, ma resta vietato morire, il Parlamento è un dormitorio, si svegli, dopo anni di agonia, in aula si discute la legge sul fine vita, la buona notizia è che per votarla, hanno slittato lo iussoli, quella cattiva è che nessuno si preoccupa di regolamentare l'eutanasia, poi il nuovo libro della Brambilla, due tigri dalla parte degli animali, per la politica, il centrodestra sta a guardare, l'asse PD, Movimento 5 Stelle, batte un colpo, due vittorie e una sconfitta, quella sul biotestamento e la vittoria, in discussione da ieri pomeriggio, la seconda vittoria e l'asse tra il PD e il Movimento 5 Stelle, mentre la rovinosa sconfitta è quella dell'ectoplasmatico centrodestra italiano, illuminato come una lampada a petrolio, scrive Filippo Facci, sulle colonne di Libero, Libero, la stampa, Israele, lo strappo di Trump, ambasciata a Gerusalemme, via da Tel Aviv entro sei mesi, lira di Unione Europea, Mosca e Lega Araba, la dichiarazione degli Stati Uniti può innescare nuovi conflitti nella regione, i palestinesi, tre giorni di collera, e poi il biotestamento verso il traguardo, lo Iussoli non supera l'esame, Alfano dice no, ma i grillini dicono lo voteremo, e poi una questione che riguarda l'alimentazione, se il cibo scaduto si può mangiare, gli alimenti oltre alla data consigliata spesso sono commestibili, allora c'è proprio un vademecum contro gli sprechi, per evitare che ce ne siano, il tempo, anche qui torniamo su Roma, Dell'Utri va scarcerato ma vogliono tenerlo dentro, i periti del PG, tumore crea i problemi al cuore per Marcello Dell'Utri, subito in ospedale, ma a sorpresa il procuratore generale sconfessa i suoi consulenti, no, stia in galera, di spalla la prima pagina del tempo, al peggio non c'è mai Fini, c'è la Boldrini, parte lo stadio, arriva l'ok per l'impianto della Roma, e i giallorossi passano in Champions, questo è il rendering di fatto di come sarà più o meno lo stadio di Tordivalle della Roma, poi vedremo quanto ci vorrà effettivamente a realizzarlo. Cambi sesso, va in pensione, diventa donna e fa causa per ritirarsi, cinque anni prima, e vince il Regno Unito, ha sbagliato la donna che è stata uomo, ha il diritto di percepire la pensione a 60 anni, non deve aspettare i 65, come obbligatorio per i maschi, una notizia abbastanza curiosa. Il sole 24 ore, fisco UE, 17 paesi in lista nera, in blacklist anche Corea del Sud ed Emirati, sotto esame ancora 47 stati, 28 membri dell'Unione, hanno trovato l'accordo sui paradisi fiscali, nessuna intesa sulle sanzioni per relazioni d'affari. Le tensioni degli Stati Uniti, Medio Oriente e Russia Gate, l'ambasciata USA-Gerusalemme, il mondo rinviate, e poi l'FBI chiede a Deutsche Bank i conti di Trump, che poi in realtà durante la campagna elettorale l'attuale presidente non ha mai voluto rendere pubblici, come spesso negli Stati Uniti si fa. Per le comunicazioni, Tim conferma l'asse con Mediaset, non si placa la polemica con i sindacati, sulla joint con Canal+, possibile ricorso alla Consob, il board autorizza il management a chiudere un nuovo accordo con il gruppo TV, in gioco contenuti per 400 milioni di euro. E poi una notizia che riguarda il nostro Abruzzo, la pasta De Cecco verso Piazza Affari, scelte le banche, lo sbarco nel 2018, e ci sono i ricavi del gruppo De Cecco nel 2016, ovvero 448 milioni di euro. Il giornale, mai più Maxi Bollette, la novità per i contribuenti, sia la norma di Forza Italia, addio con guagli oltre 24 mesi, pensioni, i nostri figli al lavoro fino a 71 anni, e poi un'edizione da record, niente meno che per il grande fratello, tutti lo criticano, tutti lo guardano, il successo infinito del grande fratello. Beh, insomma, tutti lo guardano, non è proprio la verità assoluta. A centropagina, la toga contro i suoi periti, Dell'Utri in cella, l'urlo dell'ex senatore, non ce la faccio più, il PG contrario alla scarcerazione, i cardiologi dicono, sta male. Decisione storica, ma che intifada, l'ambasciata rossa a Gerusalemme, rilancia la pace. Poi giustizia paradossale a Brescia, leggiamo, spara i ladri, la condanna è più alta che per i banditi a cui evidentemente ha sparato. Il mattino siamo a Napoli, la sanità che punisce il sud, meno fondi e più morti, i dati shock del divario con il centro nord. Allora, vediamolo questo rapidamente, questo specchietto, con le regioni del sud e la media italiana, insomma, c'è questo divario, e il luminare a scerto che dice chiudere i piccoli ospedali per fare rete tra le eccellenze. e poi per la Champions, ovviamente spazio al Napoli, Sarri, ora scriviamo la storia, le grandi cadono e si rialzano, questo è Maurizio Sarri in conferenza stampa, questa sera la sfida in Olanda, a Rotterdam, contro il Feyenoord. Il Manifesto, la miccia, ovviamente questione del Medio Oriente di Gerusalemme, l'ambasciata degli Stati Uniti sarà trasferita da Tel Aviv a Gerusalemme, Trump annuncia la svolta che per le sue implicazioni esplosive nell'area sconcerta tutti o quasi, Netanyahu ringrazia l'Arabia Saudita tace, in cambio avrà l'ok per fare guerra all'Iran. Ai palestinesi non restano che le giornate della collera, oggi ci sarà la prima. L'agenda di fine legislatura, il Senato, Biotestamento sì, Ius Soli no, e per la politica campo progressista, Pisapia va verso la rottura con il Partito Democratico. Il secolo XIX, anche qui Trump, ambasciata USA a Gerusalemme, e c'è la rabbia palestinese telefonata da Bumazen, tre giorni di collera. La verità, con cui chiuderemo le prime pagine dei quotidiani generalisti, poi andremo su quelli sportivi, quelle indagini mai svolte sui rapporti telefonici tra il faccendiere Massore e il fratello della Boschi, la cocca di Renzi, deve andarsene. un titolo abbastanza lungo, neanche trascritto le chiamate del plurinquisito Mureddu a Emanuele, che quando era funzionale, fece aprire il conto sul quadro di transito a un milione di euro per carboni della P3. Insomma, è quasi inutile leggere poi il pezzo, perché è praticamente tutto scritto nel titolo e poi nel catenaccio relativo. A centropagina ci faranno morire suicidi in questo guscio, il Senato accelera legge sul fine vita da approvare in pochi giorni e arriva la macchina per uccidersi in casa. Cassa da morte, sarco la macchina per suicidarsi, stampabile in 3D. In basso, un pomodoro cinese nel piatto ed è colpa nostra. Il giornalista francese ci racconta la storia di un harachiri. Cambiamo adesso quotidiani, andiamo su quelli sportivi, iniziando dalla gazzetta dello sport Juve. Sì, missione compiuta. Apre quadrado, chiude Bernardeschi, il 2-0 con l'Olimpia Costa vale il secondo posto dietro il Barcellona e la qualificazione Allegri. Dice certe gare, però vanno chiuse prima, dall'altra parte vai Roma e primo posto l'exploit e quello proprio della formazione giallorossa. Vittoria sul Carabag, 1-0 grazie alla rete di testa di Diego Perotti in un girone che pareva proibitivo. Il Chelsea dell'italiano Antonio Conte arriva invece secondo. Il commento di Luigi Garlando, Max Domatore e la magia di Eusebio. Le altre partite in Champions League, Bayern, tre gol al Paris Saint-Germain che però non bastano guadagnarsi il primo posto proprio dietro i francesi. Basileo che a Lisbona Rashford lancia Murigno in rimonta sul CSKA di Mosca che era passato in vantaggio nel primo tempo e allora manca solo il Napoli per qualificarsi. Napoli prova a regalarci il Tris sperando che Guardiola con il suo Manchester City fermi e lo Shakhtar Donetsk. In basso Russia bandita dall'Olimpiade Invernale 2018 sia gli attenti puliti senza bandiera. Oggi parla Putin e vedremo se ci sarà il boicottaggio alle Olimpiade Invernali. Doping la dura decisione del CIO. Svolta in Calabria fine di una favola Nicola sorpresa lascia il Crotone è una decisione solamente mia. Il Corriere dello Sport ovviamente l'apertura è dedicata alla Roma e al trionfo della formazione giallorossa battuto il Carabago 1-0 la Roma chiude prima e incassa l'ok per lo stadio la Juve passa 2-0 in Grecia e vola anch'essa agli ottavi di finale. In alto questioni che riguardano il mercato Mata Gioomario a fare per l'Inter l'idea di Mourinho si può ma con l'inserimento di Mkhitaryan il Milan invece va su Jankto che sfida a Conte il talento dell'Udinese che sarà conteso al Chelsea in basso giochi invernali Russia sospesa atleti puliti in gara sotto la bandiera del CIO chiudiamo con tutto sport Juve sotto a chi tocca e questa è la foto ieri sera dell'esultanza dei giocatori della Juventus vincitori al Pireo 0-2 con i gol di quadrato e Bernardeschi Jankto che torna sul tutto sport ma per l'Inter per il 4-3 del futuro contatti avviati per il Milan invece c'è la pista Aubameyang per gennaio Kalinic potrebbe andare in Cina Nicola invece rompe con il Crotone e si dimette e la squadra pitagorica va nel caos mondiale per club Alvia il gremio minaccia il Real le Olimpiadi sulla decisione della Russia e poi il basket l'ultima notizia è quella sul Torino Belotti il contratto è in stand by per il bomber del Torino ci fermiamo adesso le previsioni del tempo la pubblicità poi torniamo per entrare all'interno dei quotidiani di casa nostra seconda parte di mattino 6 allora possiamo iniziare la lettura interna dei nostri quotidiani ripartendo ovviamente con la cronaca di Pescara la prendiamo dal quotidiano il centro l'insegnante arrestata vediamo i titoli negate le ripetizioni il giudice del riesame respinge il ricorso della difesa di cancellare o ridurre il divieto di insegnamento per un anno il giudice Gargarella considerati il numero degli episodi e la ripetitività c'è la certezza che la docente persisterà in tali comportamenti e questa è la sede della scuola elementare piano T a Santa Filovena dove sarebbero avvenuti i maltrattamenti un bimbo peraltro testimonierà su questi maltrattamenti disposto all'incidente probatorio le dichiarazioni dell'alunno schiaffeggiato entreranno nel processo in basso 10 detenuti nel personale del tribunale firmata l'intesa con il carcere convenzione presentata dal sottosegretario della giustizia Federica Chiavaroli andiamo avanti sempre a Pescara coppia assolta dall'usura dopo tre mesi agli arresti due commercianti raccontano un inferno giudiziario concluso dopo otto anni vogliamo che il nostro nome sia riabilitato questa sentenza ci ridà dignità e per l'ingiusta detenzione ovviamente pronta la richiesta di risarcimento dei danni sempre a Pescara Mercatino chiamata al rapporto del sindaco dopo l'ultimatum di sinistra italiana a uscire dalla maggioranza Alessandrini convoca i singoli gruppi per arrivare all'approvazione finale prima del bilancio la polemica 1 centrodestra quei soldi per i mercati cittadini polemica 2 la CGL attacca i consiglieri di maggioranza sono dice senza coraggio cronaca e l'incidente ragazzo si schianta con lo scooter un 15enne ricoverato in ospedale dopo la caduta sul marciapiede a conferenza quieti racconta la Pescara antica l'ex diputato venerdì nella sede dell'associazione strada parco in basso unione delle cooperative di massimo nuovo presidente poi recital sul Natale vallone venerdì al Lido 186 appello a regione e ASL l'allarme degli infermieri poco personale nei reparti in geriatria ortopedia chirurgia 1 chirurgia vascolare un addetto per 18 malati ma l'ASL rassicura presto il concorso e a gennaio sono previste 13 assunzioni e poi riconoscimento dei bollini rosa un ospedale a misura di donna Pescara primo in Abruzzo l'appello invece dall'altra parte di un sessantenne sono malato e con due figli ho bisogno di un lavoro barriere da abbattere rimaniamo sempre a Pescara ostacoli per i disabili gli studenti reporter consegnano la mappa ieri la cerimonia finale del progetto del comune per 21 classi l'allegrino dobbiamo puntare su una città accessibile vedete i piccoli ragazzi alle prese con con la descrizione e l'analisi di quelle che sono purtroppo spesso e volentieri percorsi impossibili da seguire per le persone disabili soprattutto nelle grandi città rimaniamo a scuola sport e integrazione Coulibaly a scuola a Pescara ho trovato la vita che sognavo il centrocampista biancazzurro del Pescara racconta il suo viaggio in barcone agli studenti dell'istituto comprensivo 6 allora noi c'eravamo ieri all'istituto comprensivo ascoltiamo cosa ha detto Mamadou Coulibaly nell'ambito della campagna educativa nazionale campioni di fair play realizzata con il progetto sport e integrazione dal ministero del lavoro e delle politiche sociali questa mattina il 18enne centrocampista senegalese del Pescara Mamadou Coulibaly ha incontrato i ragazzi dell'istituto comprensivo Pescara 6 di via Scarfoglio per parlare di integrazione e rispetto nel mondo del calcio il giocatore biancazzurro nel corso del dibattito non si è sottratto alle domande degli studenti sulle varie tematiche riguardanti l'integrazione prima di rilasciare autografi e fare foto con i piccoli tifosi biancazzurri sì ogni tanto ci vuole perché i bambini pure a me mi piacciono tanto di parlare di scassare con loro è una bella cosa pure questo tu sei ormai da diverso tempo in Italia ci sono tantissimi giocatori africani nei nostri campionati ma ti sono capitati episodi di intolleranza razziale fino ad oggi in Italia ormai questo problema è superato no a me non mi è mai capitato così a me mi hanno sempre trattato bene è stato sempre bene in Italia quindi un'iniziativa importante e visto quanti ragazzi oggi con te chiedere autografi insomma sei già diventato un beniamino anche dei tifosi del Pescano eh sì ma io è una bella cosa sempre come dico perché con i bambini io sono sempre disponibile a fare tutto con la gente pure tutto con i tifosi di Pescara pure basta che sto bene e loro stanno bene pure e questi progetti sono importanti anche perché è giusto che ci sia educazione negli stati sia in campo che sugli spalti ma sì ma l'educazione è normale perché io sono uno educato finché uno non mi manca di rispetto non gli dico niente io sono molto calmo io sono molto tranquillo proseguiamo con la lettura dei quotidiani rimaniamo a Pescara ma andiamo sulle colonne del messaggero perché ci sarà sotto le feste sosta a pagamento Pescara parcheggi fa valere il contratto per l'area di risulta cancellate le gratuità per le domeniche e i festivi di dicembre nulla di fatto per le auto in doppio senso su Corso Vittorio solite difficoltà di fine anno per i commercianti del centro dopo il rilancio con il weekend lucida artista la città ha perso un'occasione per sfidare gli ipermercati e per quanto riguarda l'emergenza inquinamento c'è l'ipotesi del bus navetta contro lo smog ci spostiamo all'aeroporto di Pescara perché gelate le ali degli aerei voli in ritardo e proteste problemi tecnici all'aeroporto d'Abruzzo legati alla normativa nazionale per il decongelamento delle ali degli aerei che hanno causato ritardi ovviamente alle 6.30 per la partenza del volo Ryanair per Bergamo Orio al Serio e quello per Milano Linate scendiamo in basso per la politica a Pescara questione del mercato etnico si approvi subito il mercato o lasciamo la maggioranza sinistra italiana lancia l'ultimatum al sindaco Alessandrini e mette nel mirino il bilancio sempre a Pescara le strade tirate a lucido dagli spazzini volontari sempre più facile incontrarle al lavoro chiedono in cambio monetine e materiale arrivano da Cameron Nigeria e vivono in un centro di accoglienza a Pianella il caso Sicanen tribunale tasse in fumo nei comuni parlano i testimoni in basso alunni sentinelle contro le barriere architettoniche le scuole medie protagoniste del progetto dell'assessore Allegrino per la disabilità e poi come abbiamo visto il premio Fair Play c'è un campione in classe Coulibaly è la star dell'istituto comprensivo 6 dall'altra parte la cronaca colpi a catena denuncia per la banda delle griff cambiamo pagina sempre andiamo a rimaniamo sull'Interland di Pescara in provincia di Pescara indagini sul bimbo morto in ospedale piano d'orta comunità sconvolta per la tragedia al mayor di Firenze invece la sentenza e la giallo del cadavere nell'ascensore quello di Donato Pangiarella 6 mesi con lo sconto alla nigeriana per la morte del pensionato è Api Ayekbeni responsabile solamente di omesso soccorso in basso Farindola Ruffini accusa colpa di uno stato assente la lettera l'ex capo della segreteria di D'Alfonso io accostato strumentalmente alla tragedia in quei giorni leggiamo ho cercato soltanto di facilitare i soccorsi spettava alla prefettura coordinare in basso dallo stalking al furto un arresto a Montesilvano e poi il caso con danne severissime per la rapina del Rolex cambiamo provincia andiamo all'Aquila campo imperatore ci siamo durante le feste si potrà sciare i lavori per l'ammodernamento della seggiovia Fontari sono al termine se meteo e collaudo lo permetteranno l'idea è di aprire le piste sotto Natale e poi Tiziano Amorosi è il nuovo capo ad interim dei vigili urbani lotta alla povertà ecco il reddito di inclusione fino a 530 euro mensili in basso stop a cartonaggio molesto la crociata di noi con Salvini e poi l'inchiesta picchiò una prostituta a processo giudizio immediato per un giovane che aveva cercato di sviare gli inquirenti rispetto alle proprie responsabilità sempre all'Aquila quartiere Banca d'Italia rinascita smart presentato il progetto degli studenti universitari di ingegneria che ha vinto il concorso di idee lanciato per riqualificare l'area polo commerciale residenziale campus e pista ciclabile i giovani immaginano una zona ad alta integrazione sociale e poi le parole del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi per chi non è regovo la revoca del contributo ancora ferme 108 pratiche leggiamo per 100 milioni il sindaco Biondi va all'attacco andiamo nella Marsica pronto soccorso botte agli agenti dopo la denuncia arriva e rinvia giudizio per la donna che era stata fermata la guida in stato di ebrezza un altro grave episodio che testimonia la situazione di tensione che esiste nell'ospedale del capoluogo marsicano ad Avezzano noto ingegnere diventa un diacono buona notizia si legge per la comunità cattolica marsicana a Sulmona la scuola masciangeli da oggi nei container sempre ad Avezzano nuovo comune spesa super per un altro avvocato poi il circo bianco neve piste aperte a Pizzalto e ad Ovindoli in basso aia dei musei due sindaci ricordano Ignazio Silone Acchieti per la cronaca se spari ti ammazzo spunta un bastone e il rapinatore fugge il tabaccaio di via Sciucchi racconta il colpo sventato lunedì sera tenevo il randello dietro il bancone sapevo dice che sarebbe servito in cassa non c'era molto racconta ma i soldi li guadagno onestamente e non voglio regalarli al primo delinquente che capita tasse e servizi il nuovo corso l'adannunzio va help office e bici per gli studenti mondo universitario ovviamente in basso ospedali a misura di donna 5 bollini rosa per la ASL e poi il battesimo libera a Chieti prima mission i beni confiscati alla malavita verso le feste un Natale con gli alberi dei detenuti a Lanciano luci e abeti davanti ai negozi del corso grazie alla casa circondariale e al consorzio le vie del commercio questa sera al teatro Fenaroli il concerto di Fabrizio Bosso per il progetto Etiopia da domani la rassegna dei presepi scendiamo in pagina vasto ruota panoramica e pista di ghiaccio le attrazioni del Christmas Village Village in basso cronaca evaso IVA per 400 mila euro altra grana giudiziaria per Guglielmo Maio aperto il processo sotto la lente i conti del 2013 parla il legale piano di rientro già concordato insomma in Casa Maio altro problema giudiziario come si legge dall'apertura del pezzo poi a vasto Muay Thai quattro atleti ai campionati di Firenze andiamo a Teramo la caduta di Brucchi è l'inizio della nuova fase il PD lancia la campagna elettorale per le comunali contano le alleanze commissario in arrivo dalla Marsica aggressione omofoba sui commenti social poi torneremo a Teramo ripartendo con il centro per leggere anche le pagine del centro ma continuiamo a vedere Forza Italia si è divisa sul documento che aveva accusato i gattiani di tradimento per la cronaca stalker condannato e resterà in carcere in basso nascondeva gruppo elettrogeno della ruzzo reti e c'è stato un blitz evidentemente per scoprirlo rapina l'ufficio postale a cronialeto il bottino 27 mila euro a giulia nova pensionato e investito tre indagati l'autopsia rileva fratture costali lesione del polmone ed emitorace e della teca cranica con danni vertebrali avvisi di garanzia l'investitore è un dirigente comunale anche responsabile della società di manutenzione dell'impianto delle luci a centropagina Costantini attacca Mastro Mauro non sa che non è candidabile ed ancora il centrodestra è unito ci dispiace per le liste civiche falso dentista procura gravi lesioni ad una paziente scatta la denuncia odonto tecnico si faceva prestare addirittura lo studio medico e ad alba driatica dunque siamo in vibrata dopo il caso Viviani sette liste alle comunali torniamo sul centro che avevamo lasciato a Pescara per proseguire anche qui con l'area metropolitana di Pescara e poi con le altre province Montesilvano morto in ascensore sei mesi per omissione di soccorso condannata la donna nigeriana inizialmente accusata di omicidio preterintenzionale di Pangiarella settantaquattrenne pensionato di spoltore piano neve convocati gli operatori per le emergenze del maltempo andiamo avanti ancora cronaca a Montesilvano sempre molestatore e ladro in casa della sua ex perseguitava la fidanzata che lo ha lasciato i carabinieri lo accusano anche di furto trentenne ai domiciliari saliamo in alto ancora cronaca individuata la banda che undici mesi fa ha messo a segno quattro colpi da 88 mila euro per furti di capi di abbigliamento a Pianella e a Pineto liceo da Scania o da Alfonso trovate le risorse per la palestra polivalente a città Sant'Angelo piano di sacco l'opposizione dice no all'ecocentro in basso buoni spesa per i regali solidali domani all'hotel prestigio missione possibile distribuisce 6.600 euro andiamo avanti andiamo a Francavilla il sindaco Luciani auditorium l'apertura è vicina oggi la commissione spettacoli si riunisce per rilasciare il parere sull'agibilità della sala da 300 posti di spalla il villaggio di Natale si inaugura venerdì in piazza San Rocco a San Giovanni di Atino a Piano d'Orta oggi l'autopsia sul bimbo Piano d'Orta sotto shock non ci sono indagati per la morte del piccolo di 10 anni all'ospedale di Firenze lutto cittadino per il giorno dei funerali il sindaco siamo tutti increduli ancora per la cronaca con l'auto contro un muro sulla lungo fino a città Sant'Angelo a penne vicoli intappezzati da guano ed escrementi insorgono i residenti per le difficili condizioni igieniche e il cattivo odore nel centro storico a Chieti assalto a Chieti negoziante reagisce tabaccaio mette in fuga il rapinatore bandito con la pistola e rompe nel negozio di via Sciucchi e pretende l'incasso il titolare afferra un bastone e lo fa scappare truffa del Rolex nei guai anche un medico Chieti Galasso condannato a due anni e tre mesi per falso sette anni a un francavillese per rapina all'Aquila sul Mona vivevano all'estero con l'assegno dell'Inps 31 persone denunciate dalla finanza e c'era anche chi incassava la pensione di un familiare deceduto un'indagine come vedete partita due anni fa in basso questa notizia particolare libretto bancario vecchio 76 anni nel Comò Avezzano famiglia si rivolge a due avvocati era in un istituto di credito dal 1941 e può valere 600 mila euro a Teramo centrodestra diviso in tre verso le prossime comunali la fine del modello Teramo mette l'uno contro l'altro i leader un tempo alleati Brucchi e Tancredi pronti a contrastare l'asse Gatti Chiodi ed è possibile un'alleanza tra Di Dalmazio Morra e Di Stefano e il sindaco come vedete riunisce i fedelissimi cena nella casa di Campania per riflettere sull'epilogo e per preparare l'eventuale rivincita e vediamo anche sul quotidiano La Città la caduta del sindaco Maurizio Brucchi non vuole rassegnarsi dopo la sfuriata contro Gatti Chiodi e Di Dalmazio convoca i fedelissimi a Colle Minuccio per riorganizzarsi questa è una delle cene ovviamente una foto non proprio di ieri ma non di ieri ma di una cena comunque recente direttivo provinciale di Forza Italia sconfessa Pagano e Fanini concordando invece con Gatti e Chiodi allora andiamo a vedere il servizio del day after dopo le dimissioni dei consiglieri dell'altro ieri ieri insomma che giornata è stata con le reazioni anche del Partito Democratico dell'opposizione che si riorganizza in vista delle prossime elezioni colpito a cuore tradito fatto fuori ingiustamente senza alcuna gratitudine dai suoi stessi alleati sono questi sentimenti che agitano il dottor Maurizio Brucchi ex sindaco di Teramo che da oggi torna ad essere un medico dell'ospedale Mazzini a tempo pieno un'agonia politica che si trascina da oltre due anni e che ha portato ad una semi paralisi dell'amministrazione comunale proprio nel momento in cui Teramo avrebbe avuto più bisogno di stabilità e di idee per correre veloce e uscire fuori dal difficile momento storico che vive Brucchi accomuna spesso la sua vicenda a quella di Giulio Cesare accoltellato dai suoi fedelissimi e che non si fa scrupolo a chiamare per nome e cognome Paolo Gatti Mauro Di Dalmazio e Gianni Chiodi il noto modello Teramo che ha deciso però di non riconoscersi più da tempo nell'operato politico di un sindaco che avrebbe scelto in questi anni di essere un uomo solo al comando ma proprio sul modello Teramo tuona il commissario comunale del partito democratico Sandro Mariani sotto gli occhi di tutti c'è stata l'implosione qualcuno oggi cerca di scaricare le colpe sul sindaco Brucchi che è semplicemente la punta dell'iceberg e pensiamo appunto che tutti si debbano assumere le proprie responsabilità ma questo ci interessa poco stiamo guardando al futuro della città e soprattutto a individuare la giusta figura che metta oltre che una buona dose di responsabilità e anche una buona dose di coraggio come dovrà essere questa nuova figura secondo lei? noi abbiamo delle idee siamo convinti che non serve soltanto avere una figura che ci conduca alla vittoria ma debba essere una figura che come ho detto poco fa che metta coraggio perché questa città ha bisogno di un amministratore coraggioso la fine dell'era Brucchi si conclude con un tristissimo messaggio che l'ex sindaco di Teramo posta sul suo profilo facebook esco a testa alta consapevole di aver fatto tutto quello che era nelle mie possibilità la cosa più difficile sarà ora spiegare a mio figlio perché il suo papà non è più sindaco fossero tutti questi problemi continuiamo rimanendo a Teramo come vedete rimaniamo sulle colonne della città la caduta di Brucchi Renzo di Sabatino ovviamente sarebbe un buon candidato sindaco il PD fa il punto sulla crisi del centrodestra e prepara l'alternativa dopo 13 anni di un modello Teramo rimaniamo sempre a Teramo perché come vedete allagati e chiusi gli uffici dell'agenzia delle entrate rottura di un tubo che rende inagibile due sportelli che vengono trasferiti in un piano già inagibile pronta la cartolarizzazione bis per Banca Popolare di Bari il gruppo di cui fa parte anche Banca Tercas ha ricevuto il rating su altri 319,8 milioni di euro di NPL nell'operazione permetterà di migliorare gli indicatori patrimoniali di redditività di qualità del credito e di liquidità del gruppo Bipop Bari al ruzzo non ci sarà il super direttore la selezione per l'incarico si è conclusa con nulla di fatto nessuno risultato evidentemente idoneo la prevenzione del diabete inizia da giovani nell'istituto alberghiero di Poppa l'iniziativa di interamnia diabetici con il dottor Egno Lattanzi e poi per la provincia è annegato mentre tentava di mettersi in salvo l'autopsia sul 24enne cinese conferma la ricostruzione iniziale è stato un incidente finito in tragedia a Crognaleto rapinano l'ufficio postale vestiti da postini in due con una pistola giocattolo portano via 27 mila euro delle pensioni dalla frazione di Tottea e poi andiamo a Tortoreto perché una donna aggredita in municipio dal collega ragioniere del comune di Tortoreto ha processo per lesioni personali ad Alba Adriatica ha denunciato il collega dell'operaio travolto dal furgone l'uomo alla guida del mezzo è stato indagato dalla procura per lesioni gravi falso dentista finisce nei guai a Nereto avrebbe operato una paziente causando le gravi danni alla bocca pur essendo solamente un odonto tecnico ci ha provato diciamo così a Giulianova impatto con l'auto gli è stato fatale Mario De Benedictis 60 anni ha riportato traumi sul lato sinistro del corpo i funerali domani mattina nella chiesa di Montone adesso apriamo la pagina dello sport partiamo con il Pescara e ripartiamo dal quotidiano il centro con le questioni che riguardano l'analisi della situazione finanziaria del Pescara rosso di 7,3 milioni di euro si legge un piano per ripianare i conti il bilancio dell'anno della serie A si chiude con perdite domani l'assemblea dei soci vediamo in alto questo è lo specchietto con i numeri il disavanzo al 30 giugno verrà colmato con i fondi di riserva e sarà costituito un nuovo capitale sociale di 1,5 milioni dall'altra parte sulla situazione finanziaria parla il presidente Sebastiani nel 2018 dice andremo in attivo la serie B costerà 11 milioni Sebastiani spiega i conti il passivo è dipeso anche dalla quota di ammortamento dei giocatori di proprietà per il prossimo anno maturati già 6 milioni di crediti ma ovviamente c'è anche la partita con il Cesena allora vediamo l'ex Cascione che oggi gioca proprio a Cesena scusa Zeman con cui ha ottenuto una promozione in serie A ma devo batterti il centrocampista conquistò la promozione col Boemo nel 2012 ma in questo momento dice abbiamo bisogno con il Cesena di fare punti sulle questioni della formazione venerdì a Cesena tornerà a titolare Mazzotta Romagnoli senza Schiavone Cupis e Caccia cambiamo pagina andiamo in serie C Teramo senza gol a sta studia nuove mosse per l'attacco il tecnico Asta prova a Tulli dietro a Foggia e Bacio Terracino in vista dello scontro salvezza di sabato al Bonolis con il Fano a centro pagina Valenti saluta l'Aquila e firma per l'Arzignano serie D l'attaccante non vado via per soldi il Francavilla rischia di lasciare lo stadio Valle Anzuca come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi eccellenza acquisto del Chieti che prende Sassarini invece Pagliuca si trasferisce al Real Giulianova i Neroverdi ovviamente parliamo del Chieti prelevano il centrocampista dal San Nicolò i giallorossi ingaggiano il mediano del penne e si separano dall'attaccante Aquino Petre torna a Spoltore parliamo di basket Roseto che questa sera recupera a Trieste ma serve un'impresa stasera le 20.30 Sharks affronta in trasferta la capolista senza gli infortunati Carlino è contento e non sarà facile dall'altra parte Serie B la Weir alla riscossa domani il derby tra Giulianova e Amatori vediamo anche sulle colonne del messaggero ripartiamo con il Pescara ognuno deve essere leader l'attaccante Mancuso difficile capire quale sia ora la nostra dimensione le partite durano 90 minuti dobbiamo imparare a gestirle e c'è anche una curiosità del Rosso l'attore tifoso del Delfino protagonista del Super Spot Calcio Casa Teramo l'assetto antifano dipende dal ruolo di Varas vediamo perché ci sono le parole di Barbuti in questo momento dobbiamo sbloccarci in attacco andiamo avanti l'Aquila addio Valenti lascia anche Ranucci di spalla Roseto in emergenza ci prova a Trieste in centropagina Ponzio un futuro targato Hyundai il campione italiano di Formula 2 potrebbe essere sulle ruote coperte della Formula 3 con la casa automobilistica pronta a scommettere su di lui in Serie D Nero Stellati bene i nuovi a San Nicolò invece c'è Aria di Burrasca in basso Vastese c'è Camerlengo para rigori come Andanovic Chieti il primo rinforzo è il centrocampista Umberto Sassarini vediamo chiudiamo con le colonne di sport per rimanere sul Teramo Teramo d'attacco il trequartista per i tre punti Colfano un modulo più offensivo Ilari o Tulli favorito candidati a piazzarsi alle spalle dei due attaccanti ed eccole le due varianti di gioco 3-4-1-2 che è in mente Asta se Tulli gioca tra le linee Ilari e De Grazia saranno centrali della mediana altrimenti Vara si sposta al centro con l'inserimento sulla sinistra di Manfredo Pietrantonio questi erano i giornali di oggi mattino 6 termina qui ma torna domani puntuale alle ore 8 io vi ricordo alle 14 la prima edizione del nostro telegiornale con le notizie dalla nostra regione buona giornata e Grazie a tutti